Il 9 novembre sarà celebrato a Pordenone il ricordo delle vittime dei regimi comunisti d'Europa e non solo. La data è stata scelta perché in quel giorno del 1989 fu abbattuto il Muro di Berlino ed ebbe fine la simbolica separazione del mondo in due blocchi. Per celebrare quell'evento e per dare memoria ai milioni di persone che persero la vita a causa di quel totalitarismo, l'assessore alla cultura del comune di Pordenone, Alberto Parigi, ha voluto organizzare una rassegna dal titolo Il Muro del Comunismo, 9 novembre 1989, celebrazioni per la caduta del Muro di Berlino. Una rassegna d'alto profilo con relatori importanti, aperta a cittadini e studenti. Perché una rassegna sul Muro di Berlino e sulle vittime del comunismo? Perché il Muro di Berlino del comunismo è il simbolo, lo rappresenta. Caduto quel muro cade quel regime. Abbiamo avuto 75 anni di orrori e di crimini commessi dal comunismo, un regime che si è esteso su tre continenti per 75 anni e che ancora oggi sopravvive. Penso per esempio alla Cina, alla Corea del Nord. Dobbiamo raccontare anche questi errori, anche queste vittime assieme a quelle del nazifascismo. Questo perché non possono esserci vuoti di memoria e questo perché la storia va studiata tutta, non solo quella che fa comodo. Questo non per guardare indietro, per rimangare odi, al contrario per non guardare più indietro, assimilare tutta la storia e guardare avanti. La rassegna avrà luogo a Pordenone dal 3 al 10 novembre. Si inizia questa sera alle 20.30 in Biblioteca Civica con la presentazione del libro del giornalista Daniele Dell'Orco sulle cittadivise. Lunedì 7 novembre alle 20.30 lo scrittore Stefano Zecchi parlerà di cultura e potere culturale in Sala Grande del Teatro Verdi. Le mattinate di martedì 8 e mercoledì 9 novembre saranno dedicate ai ragazzi delle scuole superiori, che potranno assistere alla proiezione del film Le vite degli altri, e alla lezione del professor Stefano Pilotto, docente al MIB School of Management di Trieste. Giovedì 10 novembre alle 20.30 presso l'ex convento di San Francesco, gran finale con la conferenza dello scrittore Marcello Veneziani sul tema Prima e dopo il muro, cosa resta del comunismo. Gli incontri sono aperti a tutti con ingresso gratuito.